Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale Dopo questa luce accecante, non ho finito di fare la reaction, non ho più niente E' uscito il nuovo MV Dell'Axid Dopo... Aprilet Non facevo comunque, non mi ricordo perché era un po' squizio Aprilet? Sì, voglia Non facevano un comeback, quindi, insomma, ecco E' tornata, esatto Ci sono i 5, insomma Cioè, l'originalità Originalità Cioè, tornate le origini Tele-Axid Il titolo è I love you Cassette Ma che taglio gli hanno fatto? Sta benissimo È bellissimo sto taglio Oddio È la vani per caso Sì, è la vani Ma che cazzo è... Oddio Oddio Allora, ma che le lenti rosse Ma che cazzo è la vani per le lenti? Ma che cazzo è la vani per le lenti? Sì, ma che cazzo è la vani per le lenti? E' la vani per le lenti troppo cursi Sì, esatto E' l'idea del vomito questo Sì, la cazzo è il vomito comunque È perché l'amore fa schifo Esatto Eh sì, è una disperazione E allora, l'ho fatto una parte di lei da sola Sicuramente Non ho ancora leppato quindi voglio dire Ma che bello sto taglio Se lo faccio io sembro... Sì, infatti Poi con i capelli di blu Cosa sta succedendo? Oh, madonna Voglia Tip cano, insomma Chi ha più voglia Perché te vengono a fare un cesso Esatto Se non lo so, ubriaca, marcia Ma c'è la roba della San Pellegrino Sì Scusa, ma il tip Oddio E' quello de... Vabbè Non ho capito Il popolo Sì Perché ora si mette a cantare in cesso Veramente Quella figaggi Esatto Che la Cigun Cos'è, won't you be shy Ma perché? Ma perché? Vomitare Mi dà anche la mano a vomitare E' di play Deve li vomitare Oh, è di scherzo Ah, è di scherzo È giusto Madonna Eh, sì Sì Cabe Cabe Stai Eh, lei è la Vienna Che si drogava di coltina con la bustina Anche oggi uguale Guarda Mi sono drogata La specifichiamo Era una medicina Bello Belli Sì Bello Bello Finire con il riurto No, esatto Finire con il muore Esatto Cioè, proprio Yeah Mi piace Bene Vabbè E' sempre fighe In questo video Più che mai A quanto pare Anche se Love sucks Proprio Vabbè E diteci nei commenti Se siete delle Lego Che è la vostra bias Non lo so Se magari E' il vostro Ultimate Gruppo Femminile Lascia un like Se questo video Vi è piaciuto E iscrivetevi Nel mio canale Se vi fa piacere E i loro canali E ci vediamo Per questo video Ciao